Se rimaniamo nella ruota del criceto di Satana, quello addirittura si è inventato il passatempo. Pensa Cesare, il tempo è la cosa più preziosa che abbiamo, perché è a scadenza, tra nascita e morte, è contato. Il denaro va e viene, lo puoi perdere, guadagnare, lo puoi perdere e ritrovare, ma il tempo no, passa e finisce. Poi vabbè, c'è un'altra vita, ma intanto in mano c'ho questa. Quindi il passatempo è la cosa più demoniaca che l'essere umano si è inventato. Cioè butti via il tuo tempo in cose stupide. L'altra sera ha giocato l'Italia, io sono andato a dormire. Perché devo perdere due ore di sonno per vedere 22 imbecilli e ignoranti super pagati che tirano a calcio un pallone? Se proprio mi piace il calcio vado al campetto e lo gioco io. Ma non sto lì a identificarmi con gente che non conosco, non so chi è, se sono corrotti. Quindi facciamo cose, Cesare e noi, molto stupide. E a causa dell'ignoranza, stupidamente buttiamo via la nostra vita. Ora, non voglio essere supponente nel dire questo perché io ho avuto comunque delle opportunità vedere gli UFO, ad esempio, che li ho visti fin da bambino. E quindi ho formato nel tempo un'idea della vita molto particolare e uso il mio tempo nella forma più efficiente possibile. Il mio tempo e le mie forze. Anch'io mi riposo, mi faccio un po' di vacanze, mi vedo un film. Ma quando lo faccio sono cosciente di farlo e perché lo sto facendo. Non vago, ma che faccio? Se mi vedo un film è perché sono così stanco, che i miei neuroni sono inchiodati. Allora dico, ok, vi faccio riposare un po' e mi svago vedendo le stupidaggini di fantasia di un film o magari di un documentario, che ne so. Ma sono cosciente. Cioè il qui ed ora è cosa sto facendo adesso, perché lo sto facendo, che vantaggio mi dà per l'unica cosa che mi porterò via dopo morto. Cioè la mia evoluzione. Perché i soldi li lascerò qui, le case le lascerò qui, le auto le lascerò qui, la moglie la lascerò qui, i figli le lascerò qui, lascio tutto qui. Quindi va bene fare tutto, ma qualcosa me la voglio portare via nell'aldilà e nella vita successiva così me la ritrovo. L'unica cosa che ci portiamo via è l'evoluzione.